Ilaria Mauro, Laura Fusetti, appena arrivate a Rotterdam, parte finalmente l'Europeo, temperature molto diverse da quelle di Coverciano, da 36 gradi siamo intorno ai 20, Laura. Sì, sì, qua devo dire che la temperatura è, diciamo, perfetta per allenarci al meglio, quindi diciamo che il caldo di questi giorni ormai è passato, per fortuna. Ilaria, ci si tuffa subito dentro all'Europeo perché domani è già giorno di vigilia, lunedì Italia-Russia, il primo passo da non sbagliare. Assolutamente non è da sbagliare, sulla carta diciamo che è quella più abbordabile, perché comunque le altre due, Germania e Svezia, sono le squadre più forti. Comunque da questo Europeo mi aspetto una grande prestazione e una grande qualità da parte della nostra squadra. Laura, un lungo ritiro a Coverciano, come arrivate a questo appuntamento dopo così tanto lavoro? Beh, ovviamente ci siamo dovuti allenare nel migliore dei modi, quindi arriviamo qui con tanta voglia di dimostrare e di far vedere che comunque valiamo e che siamo pronte a mettercela tutta. Ultima battuta con Ilaria, qual è l'atmosfera che si respira all'interno del gruppo? C'è molto entusiasmo, non vediamo l'ora di andare in campo e far vedere cosa sappiamo fare, nulla. Ora si va a riposare un attimo, stasera si cena, si va a dormire e domani è la grande giornata di rifinitura e lunedì siamo pronte. Allora in bocca al lupo e forza azzurra! Crepi, grazie!